8 in Val D'Arno, 5 in Valtiberina, 9 in Casentino e 5 in Valdichiana. Sono in tutto 28 i comuni della provincia di Arezzo che andranno al voto domenica prossima, 25 maggio, oltre 110 le liste presentate. Liste che però, a dare una rapida occhiata alle schede elettorali, sembrano smarcarsi dai partiti tradizionali. Quasi ovunque si tratta di liste che infatti richiamano il comune in cui si vota o il messaggio che si vuole trasmettere agli elettori, segno che forse il nome del partito, che spopola magari a livello nazionale, sia poi difficilmente presentabile a livello locale. Due i comuni che superano i 15.000 abitanti, Cortona con 22.495 e San Giovanni Val D'Arno con 16.890. Gli altri comuni che andranno al voto sono Badiate d'Alda, Bibbiena, Bucine, Caprese Michelangelo, Castelfranco Piandiscò, Castelfo Cognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Fogliano della Chiana, Laterina, Lorociuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monterchi, Pergine, Valdarno, Pieve Santo Stefano, Poppi, Prato Vecchio Stia, Sestino, Subbiano, Talla e Terra Nuova Bracciolini. È bene ricordare che le modalità di voto sono differenti. Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Ciascun candidato alla carica di sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di consigliere. Votare per un candidato sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio ci sono altre due settimane di campagna elettorale e si vota la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Nei comuni superiori a 15.000 abitanti, quindi Cortone, San Giovanni, Valdarno, si vota così. Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi. Tracciando un segno solo sul simbolo di una lista e al candidato sindaco da quest'ultimo appoggiato. Un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di consiglieri appartenenti alla stessa lista. E tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Così facendo si ottiene il cosiddetto voto disgiunto. Oppure tracciando un segno solo sul nome del sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate. Nei comuni, con più di 15.000 abitanti, è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più uno. Anche in questo caso si può andare al ballottaggio e al secondo turno viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. I seggi saranno aperti domenica 25 maggio dalle 7 alle 23. Domenica si voterà anche per le elezioni europee. Agli elettori sarà consegnata una scheda di colore fucsia.